La Sicilia chiama il Veneto, più precisamente Lico di Obea, centro agricolo del Calatino, chiama Riese e San Pio X, cittadina in provincia di Treviso. L'anello di congiunzione fra queste due opposte realtà territoriali sono le festività patronali di Santa Margherita. Nel corso di un convegno svoltosi nella chiesa della Santa Patrona, sono stati saldati i rapporti culturali fra le due amministrazioni comunali. Abbiamo parlato di Pio X, di un Papa Veneto, sia perché è nato nel Veneto, ma soprattutto lui ha iniziato le grandi riforme che avrebbe portato a termine durante il suo pontificato proprio nel corso del suo percorso sacerdotale. Santa Margherita fu elevata patrona principale di Lico di Obea il 12 aprile del 1905, proprio da Papa Pio X, che emanò una bolla papale con la quale sancì l'atto religioso. Siamo venuti giù in Sicilia, è lontano da noi, però anche vicino, quando c'è la volontà tra comunità e che crediamo negli stessi valori di quello che la gente vuole. C'è quindi il rapporto, il ricordare la storia, ma soprattutto queste grandi figure che legano le nostre due identità, Lico di Obea e Riese Pio X. Soddisfazione per la presenza della delegazione Veneta Lico di Obea è stata espressa dal sindaco del paese, Nunzio Lerosi. Un momento religioso, un momento anche di incontro con due collettività rappresentate da me per Lico di Obea e da Gianluigi per Riese Pio X, che sta a significare questo rapporto non solo civile, ma anche religioso. Sono felice di questo incontro perché abbiamo voluto ricordare in questa giornata con lo studioso Ambrogio Ruggeri, che il Sampio X è stato per noi il riferimento storico perché Santa Margherita è diventata madrona del Coddio Obea grazie appunto a questa bolla firmata da Sampio X. Grazie.